Salve a tutti, io sono FafuFafuA4 e quest'oggi parleremo del Desmatosuchus. Era vissuto in Stati Uniti, era erbivoro, era lungo fino a 3-5 metri e alto un metro e mezzo. Allora, questo animale sembra un primitivo coccodillo, ma non è così, perché faceva parte della famiglia degli Archesauri, soltanto quelle spine là, sul fianco, che permettevano di difendersi, però non di attaccare. Allora, i suoi denti erano molto piccoli e lui era erbivoro, si cibava di piante, si cibava solo di piante, praticamente, e dopo il suo muso. Il suo muso aveva una testa simile a quella di un bagnale, con un muso a forma di becco, sbussato, che probabilmente usava come una pala per prendere le piante. Vabbè, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, ciao ciao! Ciao!